Perché, Alessandra, se un ricercatore tedesco va in Danimarca o un danese va negli Stati Uniti è mobilità della ricerca? Se un italiano va all'estero è un cervello in fuga? Beh, fondamentalmente la risposta più semplice e più immediata è che attualmente questo flusso è un flusso unidirezionale, che quindi sono moltissimi gli italiani che vanno all'estero per fare delle esperienze, per arricchire il proprio curriculum personale e formativo, ma pochi quelli che invece dall'estero decidono di venire in Italia per fare un investimento di questo genere per se stessi. È molto interessante pensare davvero come la scienza possa essere divulgata e diventare affascinante, parlare di bellezza, di ordine, di eleganza, dove magari alcuni vedono soltanto numeri, funzioni incomprensibili. Quindi queste sono in un certo senso le eccellenze di cui parlavamo, cioè quel progetto che andrebbe valorizzato, la possibilità per molti di studiare. Io quando ho contattato il progetto RENA ho parlato con varie persone che si sono premurate di spiegarmi una cosa, mi hanno detto noi non siamo un gruppo di cervelloni, siamo un gruppo di proposte, lavoriamo su questo, per noi l'eccellenza è un progetto. Mi puoi spiegare brevemente che cosa vuol dire? Sì, l'Arena è nata da un gruppetto di amici che si sono seduti attorno a diversi tavolini un po' qua e là per l'Europa e che avevano più o meno fatto delle esperienze tutti di un tempo limitato all'estero, che avevano deciso di ritornare, più o meno consapevolmente di ritornare in Italia o di rimanere all'estero ma mantenendo un legame con l'Italia. Quello con l'idea di valorizzare il merito, il talento, che non significa essere dei cervelloni, non significa essere particolarmente dotati rispetto agli altri, non significa spiccare sugli altri per dei particolari meriti se non uno. La curiosità è la passione e la determinazione nel voler migliorare le cose semplicemente perché ci crediamo, crediamo che le cose possano andare meglio e possono essere viste con un'ottica diversa. È una realtà molto interessante che, nonostante sia molto giovane come i membri che la compongono, speriamo che possa avere delle prospettive di sviluppo molto lunghe.